Da programma che ha già assicurato stanziamenti al municipio ad osservato speciale su agenda urbana, che per palazzo di città significa finanziamenti per circa 20 milioni di euro, si inizia a concentrare anche qualche preoccupazione istituzionale. Dalla regione non arrivano segnali e all'appello mancano dieci decreti che sbloccherebbero l'ITAR di importanti progetti, già completamente istruiti dal gruppo di lavoro che da circa un anno opera esclusivamente sul programma coordinato dall'autorità urbana. Si ipotizzava che i decreti mancanti potessero essere rilasciati non oltre giugno. Non ci sono stati però passi in avanti. Negli ultimi giorni l'assessore Terenziano Di Stefano e la dirigente Antonino Collura hanno avuto nuovi incontri con i tecnici e con i professionisti che seguono tutte le attività. Senza risposte dalla regione il rischio grosso è di andare verso un lungo stop con un cronoprogramma che però prevede rendicontazione e conclusione di tutti i lavori non oltre il 2023. Probabilmente l'amministrazione cercherà di calcare la mano con Palermo anche perché il fermo di agenda urbana causerebbe danni non da poco per il comune che ha già sostenuto spese notevoli. Il vice sindaco ha avuto contatti con il vice presidente della regione Gaetano Armao ma l'attuale stasi non sembra da legare esclusivamente alle variazioni di bilancio predisposte dagli uffici tecnici palermitani. Agenda urbana potrebbe addirittura diventare un paradosso soprattutto istituzionale mentre tutto tace sul fronte dei decreti fermi in regione. Proprio da Palermo sembra prendere corpo l'ipotesi che il programma di finanziamento possa avere un seguito. Questa volta il comune opererebbe insieme ad un altro ente del territorio, Butera. L'attuale agenda urbana invece mette insieme Gela e Vittoria. Servono però gli stanziamenti e con i decreti fermi tutto rischia di saltare.